Allora, è una bolletta del mese di luglio, tra l'altro noi siamo stati chiusi 5 giorni nel mese di luglio, perciò sono 22 giorni lavorativi, è arrivata una bolletta di 5.400 euro, praticamente un rientro dalle vacanze, fra virgolette, amaro. Energia elettrica alle stelle ormai quasi senza controllo e siamo solo a luglio. Il peggio, come hanno più volte sottolineato analisti, commentatori, alcuni esponenti politici, con rientro dalle ferie a settembre deve ancora venire. La denuncia in questo caso arriva da Michela Caruso, titolare a Montecatini Terme, insieme al marito della pasticceria Suite, presidente di Unim Confesercenti, rappresentanza del commercio diffuso e turistico. Il caro Energia, in questo caso il fornitore Repower, giustificato dalla crisi russia-ucraina, dalla riduzione della fornitura del gas da parte della Russia e che indirettamente provoca rincari nei prodotti dei supermercati anche del 100%, prodotti e beni di cui necessitano anche attività, come quella di Michela, pasticceria e affini. Un colpo durissimo, come dice Michela, per una piccola azienda come la nostra. E io la vedo come una speculazione, perché già da gennaio, che ancora la guerra non c'era, mi era arrivata una bolletta molto salata. 1.000 euro meno di ora, però per me era già un peso. E scorriamo le alcune di queste bollette degli ultimi due anni. 1.345,79 euro la spesa nell'ottobre del 2020. 1.690,63 nel gennaio del 2021, quasi 2.306 euro a settembre 2021. Arriviamo al dicembre dello stesso anno, la guerra arriverà solo due mesi dopo. La bolletta salta 4.126,45 euro. Io il caffè lo faccio sempre 1,10 euro, non l'ho aumentato, perciò come si fa? E l'attività è sempre la stessa, il lavoro che fate è sempre lo stesso? Sì, anzi, nel mese di luglio c'è un po' meno lavoro, c'è un po' meno gente, perché per fortuna loro c'è chi va in vacanza, c'è chi va al mare, c'è più caldo, perciò nelle ore più calde la gente non esce, c'è un po' meno lavoro. Però le spese sono praticamente più che raddoppiate e le spese fisse di materie prime e soprattutto consumi elettrici, consumi fissi, sono più che raddoppiati. Io ho bisogno di sapere da qualcuno cosa dobbiamo fare, così non si può andare avanti.